Il passeggio è in discesa, grazie per la collaborazione. Il treno regionale 19-4-2-3 di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto a Campiglia Marittima, delle ore 17 e 10, è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.